La notizia che ha caratterizzato Noi sapevamo che avevamo Severini e lui ci dava sempre tranquillità e sicurezza Dunque dentro lo spogliatoio sapevamo già e stavamo tranquilli di quello che stava succedendo Può influire questa svolta in positivo anche su quello che succederà di qui a maggio? C'è la semifinale di Coppa Italia, c'è una classifica di campionato da risalire Avrà un'incidenza anche sui risultati del campo? Noi dobbiamo pensare soprattutto al campo e cercare di portare risultati positivi Perché il campo dopo dà euforia e dà voglia a tutti sia la nuova proprietà Che dobbiamo dimostrare tutti insieme il valore che ha questa rezza A proposito di campo, la rezza domenica va a Scandici, va a caccia della terza vittoria di fila O magari pensa ad ottenere il massimo da questo che è uno scontro diretto per la classifica? Noi dobbiamo prima di tutto sapere nella nostra classifica, come hai detto bene con uno scontro diretto Dobbiamo andare per continuare il lavoro che stiamo facendo portando dei risultati positivi E dobbiamo sapere che siamo una classifica, che dobbiamo uscire il prima possibile Ma con la testa fare le cose fatte bene, logicamente andiamo sempre per fare il bottino pieno Ma dobbiamo stare attenti Che squadra ti aspetti visto che ci sarà anche un ex come Sanguinetti? Ma aspetta una squadra come tutte le squadre che incontriamo alla domenica Che sono squadre che aspettano l'Arezzo come la partita dell'anno Penso che tutte le squadre aspettino l'Arezzo Noi dobbiamo andare a fare una partita intelligente E dobbiamo essere bravi a sfruttare qualche indecisione loro Non avrai Zuppardo che si è aperto di appendicite Non c'è nemmeno secci squalificato La Rocca ha avuto problemi con l'influenza Che formazione stai pensando di mettere in campo? Immagino si va verso la conferma del 4-4-2 Adesso valutiamo la Rocca come sta Oggi è venuto però non sta molto bene Zuppardo e secci, logicamente non ci sarà un Zuppardo per un po' di tempo Quest'anno siamo molto sfortunati Per una ventina di giorni non ci sarà Valuteremo, ci sono già pronti delle soluzioni Dobbiamo solo in quel domani allenarci bene E valuteremo domenica Ultima cosa, una vittoria a Scandicci potrebbe cambiare L'obiettivo finale dell'Arezzo in campionato Oppure ormai sei concentrato soltanto su quota 40 L'obiettivo è domenica dopo domenica Poi valuteremo a maggio come saremo andati Però l'obiettivo è pensare domenica dopo domenica Lavorare per andare, fare la nostra partita E cercare di portare a casa il massimo dei punti Da ogni prestazione E cercare di portare a casa il massimo dei punti